Ciao ragazzi, mi presento. Io sono Federica Rossi e mi occupo appunto di ammissioni per l'Italia, precisamente dall'Ufficio di Roma, dei programmi accademici all'estero. Oggi vi parlerò di un programma molto interessante che si chiama Quadrimestre Accademico Estivo. È un programma rivolto a tutti gli studenti di una fascia d'età compresa tra i 16 e i 18 anni e che frequentano le scuole superiori. Come vedete dalla prima schermata, mi piace cominciare così, quindi Live, Study and Explore. Questo perché? Perché questa è un'esperienza di vita, soprattutto. È un'esperienza di studio, perché si apprende una nuova lingua, si rientra in Italia con una conoscenza approfondita di una seconda lingua e si esplora ovviamente il mondo. Cominciamo con un'introduzione di quella che è la nostra azienda, la IF Education è una multinazionale svedese che è nata nel 1965 ad opera di Bertil Halt, che è il nostro fondatore, il quale per primo a livello mondiale ebbe l'intuizione che l'apprendimento di una lingua si potesse avere appieno solo quando appunto si viveva nel posto in cui questa lingua appunto viene parlata. L'AIF è una multinazionale radicalizzata sul territorio in oltre 50 destinazioni in più di 20 paesi nel mondo ed insegniamo 10 lingue. La nostra missione quindi qual è? È quella di aiutare i ragazzi, le persone a scoprire il mondo proprio attraverso la formazione linguistica. Quindi vi do un po' di numeri, ecco la IF riesce ad insegnare 10 lingue in 20 paesi al mondo, abbiamo oltre 50 destinazioni e 600 tra scuole ed uffici IF in tutto il mondo. Quindi siamo presenti veramente dappertutto. È bello cominciare con questa frase che dice appunto che la vita comincia alla fine di quella che è la nostra comfort zone. Questo perché? Perché siamo tutti abituati a avere una nostra zona di comfort, ad essere legati a quelli che sono i nostri affetti familiari, i nostri amici, frequentare sempre magari gli stessi posti, avere le stesse abitudini e invece questa esperienza serve proprio a staccarci da quello che è il nostro contesto abituale ed andarci ad inserire uno stile di vita completamente differente. È vero che noi andiamo a parlare di un quadrimestre, quindi sono quattro mesi che in confronto diciamo all'intera vita sono pochissimi, però sono comunque un periodo lungo che ti allontana da quelle che sono le nostre abitudini quotidiane. Quindi si cerca di adattarsi a quella che è la cultura di un altro posto nel mondo, parlare una nuova lingua, allontanarsi dai propri affetti, dai propri amici, ma per vivere una di quelle che poi saranno le esperienze più belle di una vita. Quindi che cos'è un quadrimestre accademico? Un quadrimestre accademico è innanzitutto un'esperienza di vita all'estero, quindi fatta in diverse modalità, in diverse destinazioni e serve per imparare una lingua, fare un'esperienza del tutto internazionale, esplorare paesi differenti e prendersi una pausa da quello che è un percorso scolastico piuttosto che lavorativo. Il quadrimestre accademico nello specifico è un programma che si può fare appunto come vi dicevo nell'introduzione tra i 16 e i 18 anni, normalmente si fa tra la terza e la quarta superiore. Il periodo più giusto per partire per questa tipologia di esperienza è il periodo che va da maggio a settembre. Normalmente si parte entro la prima metà di maggio, quindi parliamo delle date intorno al 3 o al 10 maggio e si rientra a settembre il 3 di settembre, quindi nella prima settimana. Questo programma non va ad intaccare quello che è il percorso scolastico perché è un programma che va al di là di quella che è la scuola italiana, per cui l'IF vi darà una documentazione che vada a testare con la scuola che ci saranno delle giornate di assenza giustificate per la partenza appunto di un'esperienza di questo tipo e si lascia la scuola con qualche giorno di anticipo, quindi entro maggio. Normalmente diciamo che si riescono tranquillamente a gestire quelle che sono le interrogazioni prima di questo periodo. Perché si parte per un quadrimestre estivo? Allora innanzitutto perché va a migliorare quello che è il proprio rendimento accademico, perché si parte per un'esperienza in estate dopo aver concluso un intero anno scolastico e si va ad imparare a un livello veramente molto alto la lingua. Questo porta tantissimi benefici sia personali che ovviamente poi dal punto di vista della didattica per la scuola, perché è un programma che comunque dà un riconoscimento di crediti ed è un programma che viene valutato tantissimo anche in termini curriculari, che sia per la scuola piuttosto che per l'università. Si ottiene una padronanza piena della lingua, quindi si rientra in Italia con una conoscenza quasi bilingue. Si possono coltivare tantissime competenze trasversali. Si diventa cittadini del mondo perché considerate che avendo appunto tantissimi uffici a livello mondiale le nostre classi sono totalmente internazionali, quindi ci si rapporta veramente con studenti da ogni nazionalità. Per esempio una classe può essere composta dall'italiano, dal giapponese, dallo spagnolo e questo quindi ti porta a conoscere ed entrare in contatto con veramente tantissime forme diverse di cultura e si è più competitivi sul mercato del lavoro. Ovviamente mi rendo conto che in una fascia d'età di 16-17 anni ancora non ci si pensa a quello che sarà il futuro ed il mondo del lavoro, però invece è molto importante perché si è competitivi a livello accademico, quindi con la scuola e con l'università, ma un giorno quando si andrà ovviamente a fare un colloquio di lavoro si comincerà ad entrare in quello che è il mondo del lavoro in effettivo, avere un'esperienza internazionale dà sicuramente un plus al curriculum. Quindi perché si parte per un quadrimestre estivo? Si parte per evitare lo stress da studio, siamo abituati a studiare un anno intero, cominciamo a settembre, si finisce a giugno, poi si ricomincia nuovamente, finito il liceo si comincia con l'università, dopo l'università bisogna cominciare subito a lavorare. Questo è un periodo dedicato a sé, è un periodo dedicato alla conoscenza della lingua, alla conoscenza di se stessi, perché no? E ha un periodo anche di divertimento e di relax. Serve ad acquisire anche una certa consapevolezza finanziaria perché sicuramente è la prima volta che si è lontani da casa, quindi si devono affrontare delle spese anche banali come ad esempio acquistare da soli un abbonamento ai mezzi pubblici, pagarsi ad esempio dei pranzi o delle cene, uscire con gli amici, gestirsi il proprio budget. Ecco, si è più soddisfatti del proprio impiego sia lavorativo che scolastico perché un'esperienza di questo tipo ti porta a approfondire la tua conoscenza della lingua e anche a essere più soddisfatti una volta che si rientra perché ti rendi conto che effettivamente sei diventato bilingue. Serve a scoprire nuove destinazioni, trovare il proprio posto nel mondo e a vivere un'esperienza che veramente cambierà la vita. Quindi, come vi dicevo prima, EF ha oltre 50 anni di esperienza, abbiamo più di 50 campus linguistici nel mondo, riusciamo ad insegnare dieci lingue, abbiamo un'ampissima varietà di corsi che vanno dai corsi di general English a dei corsi magari più intensivi per la preparazione di un esame, le durate sono variabili, quindi possono essere sei, nove, undici mesi e abbiamo tantissime destinazioni nel mondo. Allora, qui vi faccio vedere quelle che sono le destinazioni per la lingua inglese. Partiamo dalla classica Inghilterra ed Irlanda, quindi con le più universitarie Londra, Oxford e Cambridge oppure Dublino e poi abbiamo le mete più a sud dell'Inghilterra, quelle un po' più ricche di Movida e quelle più frequentate soprattutto nel periodo primavera-estate che sono Brighton, Bournemouth oppure Eastbourne. Le mete negli Stati Uniti e nel Canada, abbiamo le classiche città di New York, Boston oppure Miami, Santa Barbara, San Diego, San Francisco, per il Canada vedete Vancouver, Vancouver Island e Toronto. Per chi invece vuol tenersi un po' più vicini alla nostra Italia abbiamo Malta, nella bellissima zona di St. Julian, abbiamo un campus bellissimo anche con la spiaggia privata. se ci allontaniamo ancora un po' in la città del capo in Sudafrica e per l'Australia e la Nuova Zelanda abbiamo quattro campus, quello di Oakland, Brisbane, Sydney e Perth. Oppure se vogliamo andare ancora un po' oltreoceano c'è Singapore. La nostra scuola di Singapore riesce ad insegnare sia l'inglese che il cinese mandarino. Al momento è una scuola molto frequentata perché per tutti i ragazzi che volevano magari spostarsi verso il Giappone, la Corea e siccome adesso i confini insomma con queste destinazioni sono ancora bloccate, riusciamo a farli partire subito e immediatamente per Singapore e da lì potranno poi volendo spostarsi nelle altre città di loro riferimento. Vi avevo già anticipato appunto alcune altre delle lingue che insegniamo. Allora cominciamo con lo spagnolo. Abbiamo due campus bellissimi, uno a Malaga e l'altro a Barcellona. Il francese per le destinazioni di Parigi e di Nizza, il tedesco nelle destinazioni di Berlino e Monaco di Baviera e poi come vi dicevo insegniamo anche cinese, giapponese e coreano e abbiamo le nostre scuole a Shanghai, Tokyo e Seoul. Al momento tutti i nostri campus sono aperti, quindi le nostre scuole sono attive già dall'inizio dell'anno, i nostri ragazzi sono già a destinazione tutti. Essendo EF una grande multinazionale ovviamente la sicurezza è la nostra prima priorità per cui applichiamo tutte quelle che sono le norme da rispettare in questo periodo, quindi il distanziamento sociale all'interno delle nostre aule, c'è un distanziamento di banchi di un metro e mezzo almeno l'uno dall'altro, sono stati intensificati tutte quelle che sono le attività di pulizia sia ovviamente delle aule che di tutti gli spazi comuni come ad esempio le lounge, le toilette. C'è una verifica quotidiana degli studenti per la temperatura, vengono distribuite le mascherine e tutti gli studenti che ovviamente hanno una temperatura superiore al 37.5 non possono ovviamente accedere a quelli che sono gli spazi della scuola stessa. Queste norme vengono applicate per gli studenti ma allo stesso tempo ovviamente anche per il nostro staff. Operiamo nel rispetto di quelle che sono appunto tutte le normative e le disposizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come potete vedere qui ci sono due esempi insomma di come sono organizzate adesso le nostre aule, le nostre camere all'interno delle residenze. Vedete i ragazzi hanno le mascherine, sono molto distanziati però facciamo le lezioni in presenza, quindi non ci sono lezioni online ma c'è un docente fisico che insegna effettivamente le, che fa effettivamente lezioni a tutti i ragazzi. I membri dello staff hanno ricevuto tutti una formazione specifica su tutte le misure di sicurezza da prendere in questo periodo e ovviamente la nostra offerta prevede anche quella che è la massima flessibilità per rispondere a quelle che sono le esigenze di tutti voi ragazzi. Questo programma permette di avere una nuova casa lontano dalla propria, come vi dicevo si esce dalla comfort zone ma si entra in una nuova realtà che può essere una realtà di alloggio in famiglia, quindi fare uno scambio culturale al 100%. Si entra a vivere con una famiglia ospitante locale e qui praticamente si vive proprio come persone del posto, quindi ci si sposta verso la scuola con i mezzi pubblici, si vive con una famiglia che ha le proprie abitudini, i propri usi, i propri costumi e normalmente l'esperienza in famiglia è quella che dà anche una grandissima padronanza della nuova lingua perché è molto stimolante come tipologia di esperienza. Per chi invece è un po' più comodo come esigenze c'è la residenza. La residenza che cos'è? È una studentato all'interno del quale c'è un ambiente completamente internazionale dove vivono tutti gli studenti dell'IF Education e la residenza diciamo è la soluzione comoda perché è a brevissima distanza dalla scuola e dai luoghi più centrali delle città. Ecco per esempio questo è un esempio dei nostri campus, i nostri campus sono sempre molto grandi, molto belli, il campus è proprio il dormitorio all'interno della scuola, quindi come potete vedere sono equipaggiati di tutto che possono essere campetti sportivi, sale fitness, piscine, zone relax, ovviamente lì potete riunirvi con quelli che sono i vostri compagni di corso per passare del tempo libero. Come tipologia di corso diciamo le tre principali sono queste, il corso intensivo che è un corso da 32 lezioni settimanali da 40 minuti ciascuna, è un corso appunto molto focalizzato sulla lingua, c'è la possibilità di praticarla tutti i giorni circa 5 ore al giorno da lunedì al venerdì, è un corso molto personalizzabile perché dà la possibilità di personalizzare 10 lezioni settimanali in argomenti di proprio interesse. Che cosa vuol dire? Che oltre alle lezioni di lingua avete la possibilità di gestirvi autonomamente il piano di studi per 10 lezioni settimanali scegliendo di personalizzarle per la preparazione di una certificazione internazionale, se per esempio volete concentrarvi di più su un focus linguistico piuttosto che fare delle lezioni su una sorta di orientamento universitario, quindi magari fare delle lezioni per dire di economia, di legge piuttosto che turismo, così da avere una conoscenza dell'inglese anche un po' più settorializzata per quello che poi pensate di voler fare da grandi. Il corso generale è molto simile a quello che è il corso intensivo, è più o meno sulla falsariga, prevede 26 lezioni a settimana, quindi diciamo un'oretta in meno di lezione al giorno, sono più o meno tutti i giorni quattro ore di lezione e questo corso dà la possibilità di personalizzare quattro lezioni settimanalmente. Volendo si può anche organizzare un corso di preparazione esame, se si ha per esempio l'esigenza di prendere una certificazione internazionale per poi accedere in un'università che sia in Italia o all'estero, possiamo organizzare un corso che è già focalizzato sulle simulazioni e sulle prove per il superamento delle certificazioni che possono essere il Cambridge, l'IELTS, il TOEFL e tutti gli altri più importanti esami ufficiali di tutte le altre lingue. Quindi che cosa si ottiene alla fine di questo corso? Allora si ottiene la certificazione EFSET che è una certificazione basata sul quadro comune europeo delle lingue, quindi spendibile assolutamente in ambito scolastico ed in ambito universitario e va ad attestare quello che è il livello linguistico che si è raggiunto al termine del programma. E in più si ottiene un certificato di frequenza che è un documento ufficiale che va a segnalare quello che è il piano di studi che si è frequentato a destinazione, il numero di ore di lezione che avete frequentato, il periodo e tutte le votazioni che avete ottenuto. Io insomma vi lascio quelli che sono i nostri contatti per poter magari approfondire meglio l'argomento del quadrimestre accademico estivo. Ci sarebbe veramente tantissimo da dire e quindi spero di sentirvi presto. Vi lascio sia la nostra mail che è annodistudio-ef.com sia il nostro numero di telefono che è 800-827107. Vi lascio anche il nostro WhatsApp, così se preferite scriverci per chiederci maggiori dettagli e informazioni su questa tipologia di programma sarò ben lieta di aiutarvi. Per qualsiasi informazione non esitate veramente a contattarci, vi ringrazio per l'attenzione e una buona serata.